Terminata la finale tra Messico e Brasile, lo scontro sudamericano va beh al Messico, messaggio di cala coppa, gliela diamo l'anno, partiamo dagli sconfitti. Per dire, penso un cammino bellissimo della tua squadra, è arrivata con onore alla giocarsita finale, purtroppo magari è mancato quel quid in più che poteva portare la coppa a casa, ma penso che il cammino sia veramente eccellente, per come siete partiti per l'opo di gioco, per come siete partiti, per come siete arrivati, c'è solo da essere molto soddisfatti da partiti. Anche perché comunque era la prima partitazione, cioè almeno all'inizio possiamo essere soddisfatti, perché si era cercato di giocare per esempio loro, che comunque era stata una partita equilibrata, ma sostanzialmente è stata, su 2-2 eravamo tutti convinti che si andava sui riguri, invece poi all'ultimo esce questo 3-2. Una volta a noi no, allora è la più importante. Sarebbe l'anno prossimo magari, ti faccio l'imbocca al lupo e davvero i complimenti. E chi dà buco? In me si fa questa coppa, incredibile ma vero, incredibile ma vero, veramente i bookmakers non davano la quotazione, nessuno avrebbe mai scommesso su di voi, e invece non lo pensavo faccio. Assolutamente, è uscito i vincitori, per l'altra volta è uscita con una coppa, che penso sia importantissimo, è meritatissima per quello che l'ho scritto, con quale vedi a fare questo torneo, sempre per divertirvi, per stare in rally buoni, per essere amici, e questo a volte può portare ancora un torneo. 1974, abbiamo un sogno americano. Abbiamo fatto un bellissimo torneo, la finalissima se la siamo trovati, la miglior partita del successo, nella partita di essere portata, è per l'anno successo. è bello a questa coppa che si è andata, la grande parte di essere posto, è la nostra caratterica per questa coppa. Le diamo a tutti i nostri cammini, i nostri giocatori, ragazzi, allora questa coppa, abbiamo vinto noi! Grazie mille ragazzi, è appassionata. Ciao! Alla capitano mi nice.